Per Notte Criminale parliamo del processo, anzi di un paradosso del processo. Vale a dire il suo scopo. Chi si è occupato della materia ha individuato tanti scopi diversi del processo. Per qualcuno attraverso il processo si arriverebbe all'attuazione della legge, per altri alla reistituzione del diritto, per altri si attuerebbe la giustizia, ed altri ancora ritengono che attraverso il processo si persegua la verità. Nessuno di questi può essere individuato come vero scopo del processo. Non nella ricerca della verità, perché tra ciò che accertano i giudici del processo, attraverso i mezzi che l'ordinamento pone a disposizione per raccogliere le prove, e attraverso la griglia delle esclusioni di talune prove o della predeterminazione del valore di altre, molto spesso la verità non si consegue attraverso il processo, almeno la verità storica, e conseguentemente attraverso il processo non si realizza la giustizia. E d'altra parte il giudicato, cioè l'impossibilità di ricorrere ad ulteriori impognazioni, che sono i mezzi attraverso i quali l'ordinamento corregge gli errori dei giudici, non dovrebbe avere spazio, mentre sappiamo che proprio attraverso il giudicato viene coperto più che con la terra l'insieme d'errori che i giudici possano aver commesso durante il percorso che dallo stato di ignoranza a quello di possibilità rappresentato dalla formulazione di un'ipotesi d'accusa, della probabilità, che è lo stadio della imputazione e della certezza, che è lo stadio della sentenza, e che conseguentemente non hanno da un certo momento in poi più alcuna rilevanza. E allora, se escludiamo che questi possano essere gli scopi del processo, dobbiamo ammettere che, e questo può apparire un paradosso, il processo si risolva nel giudizio. Ed infatti, storicamente, si parlava di processus iudici, che poi, per antonomasia, diventò semplicemente processo. Ma se scopo del processo è il giudizio, dobbiamo dire, e questo può sembrare un paradosso, ma non lo è, che il processo, in quanto giudizio, non ha uno scopo. Lo scopo, invece, ce l'ha il legislatore nel momento in cui organizza la strada per arrivare al giudizio in un certo modo, anziché in un certo altro. Grazie. 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 Grazie.